Il GHC Garofa Lelche ha una strategia di crescita sia a livello organico, sappiamo tutti che i fabbisogni assistenziali in Italia sono in forte crescita quindi sta aumentando moltissimo l'offerta assistenziale sia in convenzione con le regioni sia a livello privato. Noi abbiamo anche una progettualità importante che riguarda le M&A, quindi una crescita importante per linee esterne attraverso acquisizioni di strutture che abbiano valori e performance compatibili con le nostre. Le priorità continuano ad essere crescita, 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 siamo molto focalizzati sulla crescita sia come dicevo organica sia per linee esterne. Abbiamo performance economiche e finanziarie molto solide con una marginalità del 19%. Oggi purtroppo il nostro titolo non è apprezzato, sconta ovviamente gli elementi di contesto, ma noi ad oggi siamo sugli stessi valori della quotazione avvenuta nell'autunno del 2018 avendo raddoppiato sia performance economiche che finanziarie sia a livello patrimoniale perché siamo proprietari di tutti i nostri immobili. Quindi io spero che questa Star Conference ci possa dare l'opportunità di far comprendere agli investitori che abbiamo incontrato, sia italiani che esteri, il grande valore che è contenuto all'interno del nostro gruppo, un gruppo che opera peraltro in un settore resiliente, quindi un investimento solido e sicuro.